Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento questa splendida Audi A3 Sportback 1.6 TDI 105 CV, quindi 77 kW, immatricolata nell'anno 2013, appartenuta ad un unico proprietario con soli 126.000 km percorsi. È una versione ambiente, col pacchetto business, infatti monta a fare xeno con luci diurne LED, sistema di navigazione satellitare cartografico e viva voce bluetooth. Abbiamo ruote in lega, cornici cristalli cromate, un splendido grigio medio metallizzato, sensori di parcheggio posteriori, specchi abbattibili elettricamente. Vi mostro gli interni, che sono in misto, pelle e tessuto. Il volante è multifunzione, dotato anche di cruise control. Ecco i 126.000 km percorsi, il sistema di navigazione è quello originale, viva voce bluetooth, è sempre l'interfaccia MMI Audi. Abbiamo l'Audi Drive Select, il sistema di start and stop automatico, aria condizionata, cambio meccanico 6 rapporti e tutta la tastiera per comandare le nostre utenze. Questa vettura non è mai stata assinistrata. Vedete anche le condizioni del sedile posteriore rispecchiano quelle generali dell'auto. È disponibile in pronta consegna e viene proposta con 12 mesi di garanzia legale di conformità estendibile. Vi aspetto a Gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie